il film di bambocci, discotecati della merda e che lo sai che vabbè il jazz e il film non ha anche a che se vabbè il film è il film è il film è il film oh la cingione, la cingione se la torniamo a noi o mi ha cacciato mamma dentro da casa guarda il film è il film no, a Emma mi ha cacciato direttamente alla prima volta molto bene posso pezzo parla invece dell'attitudine delle persone quello che si vuole ottenere nella vita da dove veniamo, dove vogliamo andare ognuno lo chiama nel proprio modo con questo modo di fare questa nostra attitudine la cosa che vogliamo seguire è il nostro film 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 film